Stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica il più possibile, stiamo provando tutte le strade perché ormai è 13 mesi che mia figlia è in carcere per un'accusa di un delitto che in Italia non sarebbe neppure passibile di un processo. Senza la guerrera della controparte, lesioni così rilevanti non sono assolutamente perseguibili dall'accusa. Presenteremo la richiesta per i domiciliari durante l'udienza del 28 e speriamo che siano accolte. Ci aspettiamo che i cittadini italiani siano tutelati. Abbiamo semplicemente bisogno che quando si fanno delle dichiarazioni da patrioti le si portino avanti nel tempo. Cioè difendere i diritti di un cittadino italiano è l'essenza stessa del patriotismo.